va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica buona giornata a tutti voi e bentrovati da massimiliano spiriticchio in studio natascia la parte tecnica e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne a partire dal 22 agosto con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto finalmente si è aperta la possibilità per i cittadini vittime del risparmio tradito di inviare le relative richieste per l'accesso al fondo indennizzo risparmiatori tramite il portale con sap la scadenza per la presentazione della richiesta è di 180 giorni a partire dal 22 agosto peccato però che dopo tanta attesa i cittadini interessati si siano trovati di fronte all'ennesima beffa il portale consap attraverso cui presentare la richiesta si blocca continuamente inoltre i cittadini lamentano forti difficoltà nel reperire la documentazione necessaria ad avanzare la richiesta trattandosi spesso di documenti datati magari in possesso di persone anziane esiste la posì esiste sì la possibilità di un'autocertificazione ma rimane risolto il problema della necessità di far autenticare la firma da un notaio in pratica sembra che tutto sia costruito ad arte per rendere più complicate le procedure di richiesta dell'indennizzo magari nella speranza che qualcuno rinunci è necessario che la commissione tecnica e la consap alle quali chiederemo un incontro agiscano in direzione di una semplificazione delle procedure a partire proprio dall'autenticazione della firma lo fa sapere la feder consumatori abruzzo i cui sportelli presenti su tutto il territorio nazionale sono a disposizione dei cittadini per l'assistenza necessaria alla presentazione delle richieste lo scorso anno da presidente della provincia di pescara ebbi modo di chiedere alla regione abruzzo di prevedere misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree interne svantaggiate e con una delibera del consiglio regionale la regione rifinanziò per il 2018 questa iniziativa con una riduzione del 10 per cento sul costo dell'abbonamento mensile annuale per gli studenti tra gli 11 e 26 anni che usufruivano del trasporto pubblico ed erano residenti in un comune montano lo fa sapere l'ex presidente della provincia di pescara antonio di marco che dice avendo avuto questo positivo riscontro lo scorso anno a seguito di numerose segnalazioni da parte di famiglie del nostro territorio ho deciso di chiedere ufficialmente il presidente della regione marsilio di prevedere un intervento di agevolazione altrettanto utile a favore delle numerose famiglie del nostro territorio siamo a fine agosto e ad oggi purtroppo i ragazzi che stanno acquistando l'abbonamento dei mezzi pubblici lo stanno pagando a prezzo pieno e rimango sorpreso che l'azienda di trasporto pubblico tua spa rispondendo ad alcuni utenti che chiedono informazioni sulla possibilità di agevolazioni tariffarie riservate agli studenti pendolari comunichi che la regione non ha confermato questa iniziativa di utilità sociale la cronaca un bimbo di 5 anni è annegato in piscina tragedia ieri pomeriggio alle 17 a silvi marina in un hotel il bambino che era in vacanza in abruzzo con la famiglia è affogato mentre faceva il bagno nella piscina dell'albergo immediati i soccorsi del personale della struttura e del 118 giunto subito sul posto dopo la concitata chiamata di allarme il bimbo quando è stato tirato fuori dall'acqua era ancora vivo per 20 minuti i soccorritori hanno cercato di rianimarlo più volte il piccolo ha appunto ricevuto questo tentativo ma tutto purtroppo è stato inutile ed ora si sospetta che dietro il suo decesso ci sia una congestione è polemica pescara sulle manifestazioni relative all'anniversario del bombardamento sulla città il partito democratico aderisce sarà presente con una propria delegazione all'iniziativa di commemorazione ricordo dei bombardamenti di pescara sabato 31 agosto non serve dice il pd specificare che l'iniziativa sarà quella dell'ampi a cui saremo presenti un'unica dotata secondo il pd di onestà storica rispettosa dei valori professati dalla nostra costituzione dall'esigenza sempre attuale nel contesto democratico di rievocare ricordare per non ripetere gli errori del passato lo dichiara il segretario del pd abruzzo michele fina rispetto alla partecipazione alla celebrazione pescara a memoria aggiunge fina quest'anno la partecipazione alla celebrazione ampi assume riteniamo un valore ancora più importante i tentativi di revisionismo che si sono concretizzati lo scorso anno con l'organizzazione a pescara di un'iniziativa parallela imbastita per negare goffamente la correlazione tra la tragedia le scelte del fascismo i bombardamenti quest'anno hanno il placet istituzionale del comune di pescara un fatto gravissimo dice il pd a cui opporsi con decisione il pd a tutti i livelli non smetterà mai di difendere con forza e valori della resistenza che sono quelli dice il segretario regionale michele fina da cui deriva direttamente la nostra costituzione la necessità irrinunciabile che siano fatti propri da tutte le istituzioni ma sul punto c'è la replica che giunge dalla maggioranza interna al consiglio comunale di pescara spiace dover constatare come ancora una volta chi tenta di dividere la città in fazioni su commemorazioni istituzionali che non hanno e non devono avere colore politico sia lampi con l'alleanza del pd e della sinistra l'amministrazione comunale quest'anno ha semplicemente inteso re istituzionalizzare un evento che appartiene a tutti non ritenendo giusto appaltare un anniversario di tale portata a una sola associazione ma facendosi capofila della sua organizzazione proprio per coinvolgere tutti e lampi è stata formalmente opportunamente invitata a partecipare con i propri labari e gonfaloni al pari di tutte le altre associazioni combattentistiche d'armi della nostra regione che hanno pari dignità e rilievo e il commento del presidente del consiglio comunale marcello antonelli e del sindaco carlo masci alle polemiche sollevate da ampi e sinistra sull'evento promosso per ricordare i primi bombardamenti su pescara presentata ieri mattina la quattordicesima giornata del creato in programma il primo settembre quindi domenica dalle 19 in largo venezuela a monte silvano l'evento che si aprirà con una celebrazione eucaristica è indetto dalla conferenza episcopale italiana che sulle esortazioni di papa francesco a coltivare e custodire il creato vuole sviluppare far crescere il mondo con responsabilità attraverso una giornata di riflessione d'incontro che ha come claim 2019 green happening il green happening nasce come evento finalizzato a questa missione e vuole celebrare la quattordicesima giornata nazionale per la custodia del creato invitando ad un unico tavolo il mondo cattolico e quello ambientale per condividere i percorsi ampliare le sensibilità e conoscenze attraverso un appuntamento dove le parole d'ordine sono incontrarsi parlare informarsi il mondo ambientale quello culturale cattolico in questa giornata incontro promuoveranno gli aspetti fondamentali e necessari per essere custodi del creato nell'impegno religioso e non solo il benessere sociale grande ruolo della famiglia i rapporti umani il lavoro sono i capisaldi per affrontare col giusto atteggiamento il vivere con l'ambiente imparando a guardare alla biodiversità per prendercene cura oggi è venerdì 30 agosto e nella diocesi di avezzano si celebra la memoria di san pietro eremita solennità in rocca di botte nella diocesi di sulmona valva si celebra nella concattedrale valvense la solennità della dedicazione della chiesa concattedrale nella diocesi di isernia venafro si celebra la festa dell'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale solennità nella cattedrale la direzione la redazione la regia e tutti i collaboratori di radio speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a monsignor francesco santuccione vicario generale della nostra arcidiocesi di pescara penne e siamo alle previsioni del tempo oggi su pescare provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino poco nuvoloso dalla tarda mattinata a tutto il pomeriggio e sereno in serata con temperature da 24 a 30 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino nuvoloso dalla tarda mattinata alle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 24 a 30 gradi e 20 deboli il mare è previsto quasi calmo con queste previsioni noi ci salutiamo da massimiliano spiriticchio in studio natascia in regia e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne grazie e risentirci abbiamo trasmesso radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica ciao 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 ciao